Sì, grazie. Anche io. Grazie. Chiedi e ti sarà data. Sì. Uh, guarda un po' qui, internet, vediamo se quei coglioni hanno scritto qualcos'altro su di noi e su quel cazzo di film. I film basati su Jay e Silent Bob fanno cagare a sangue freddo, perché, come dire, loro fanno cagare a sangue freddo. Figli di puttana, è ora di rispondergli con qualcosa. Scrivi quello che cazzo ti ha detto. Voi, grarrotti in culo, la pagherete tutti. Voi siete quelli che ci fanno cagare. Fotteremo le vostre madri davanti ai vostri occhi e vi faremo piangere come pezzi di merda. Una volta localizzati quegli strozzi della Miramax a Hollywood che stanno girando il film, gli faremo mangiare la nostra merda. Dopo gli faremo cagare la nostra merda e dopo gli faremo mangiare la loro merda fatta dalla nostra merda. E voi tutti pezzi di merda sarete i prossimi. Vi amiamo Jay e Silent Bob.